E' un bel giorno per morire, dicono i lavoratori della casa di riposo di Castellazzo, parafrasando il titolo di un famoso film, ma almeno vogliamo farlo con quella dignità, affermano, che spetta i nostri ospiti e da noi come lavoratori. Detta in parole povere, la casa di riposo di Castellazzo chiude. I suoi circa 40 ospiti verranno ricollocati nelle strutture più vicine, in accordo con le famiglie, sperando di riuscire a mantenere le rette convenienti. Per gli oltre 20 soci della cooperativa, la disoccupazione potrebbe essere una realtà molto vicina. I tre lavoratori dipendenti forse verranno riassorbiti nelle asle, ma i 17 restanti che gestivano la casa di riposo e i due liberi professionisti hanno un grosso punto interrogativo per quanto riguarda il loro futuro occupazionale. La casa di riposo di Castellazzo era conosciuta da tutti come una struttura molto ben curata, con lavoratori attenti e premurosi, tanto che durante la pandemia non hanno mai avuto decessi. Per le famiglie così come per i pazienti, ospiti, ora sarà un trauma lo spostamento. Cosa pensate di quello che sta succedendo? È un gran pasticcio, per noi è un problema grosso. A noi non hanno ancora comunicato niente, cioè dire guardate che li spostiamo tutti lì non ce l'ha ancora mai detto nessuno. Stanno trattando, stanno parlando, ma più di questo non so. Come vi siete sentiti la scorsa settimana quando improvvisamente vi è stato detto che forse... Io ho mio padre lì dentro, come potrei sentirmi? Non certamente bene, si spera in una soluzione. Io poi carte in mano non ne ho, dunque decidono tutto loro. Grazie. Grazie.